Ti affascina l'idea che semplici numeri possano rivoluzionare il tuo destino finanziario? Nel video di oggi, ti mostreremo una tecnica straordinaria che prevede l'uso di tre numeri specifici a tre cifre. Se scritti sulla tua mano, questi numeri possono attrarre abbondanza e garantirti di non rimanere mai senza soldi. Questa pratica si basa su antiche conoscenze e la potente energia della numerologia per aiutarti a manifestare prosperità nella tua vita. Resta con noi fino alla fine per scoprire cosa rende questi numeri così speciali, come scriverli correttamente e quali affermazioni utilizzare per potenziarne gli effetti. La pratica di scrivere numeri sul corpo ha radici profonde in diverse tradizioni spirituali e culturali. I numeri sono visti come portatori di vibrazioni ed energie specifiche che possono influenzare la nostra realtà. Scrivendo questi numeri speciali sulla tua mano, ti allinei con le frequenze dell'abbondanza e della prosperità. Ma perché proprio la mano e perché questi numeri? Scopriremo insieme il significato di ciascun numero, la mano su cui scriverli e le potenti affermazioni da recitare per aumentarne l'efficacia. Questo video ti accompagnerà passo dopo passo, dalla comprensione delle proprietà uniche dei numeri scelti alle migliori pratiche per mantenere una mentalità positiva. Imparerai come utilizzare questa potente tecnica per attrarre abbondanza finanziaria. Sia che tu conosca già la numerologia o che sia nuovo a questo concetto, questo metodo semplice ma efficace può trasformare radicalmente il tuo benessere finanziario. Oggi, non perdere l'occasione di cambiare il tuo rapporto con il denaro e ricordati di iscriverti al nostro canale per ulteriori consigli e approfondimenti sul tuo percorso spirituale. Tuffiamoci insieme e scopriamo i segreti della prosperità finanziaria. Oggi sei la benvenuta o il benvenuto su ricarica mentale. Iniziamo con il numero 777, spesso associato alla crescita spirituale, alla guida divina e all'abbondanza. Nella numerologia, il 777 è considerato un numero di grande spiritualità che rappresenta l'armonia tra mente, corpo e spirito. Scrivere il 777 sulla tua mano può attirare queste energie nella tua vita, sintonizzandoti con la frequenza dell'abbondanza. Il numero 7 è visto come simbolo di perfezione e completezza in molte tradizioni spirituali. Quando appare triplicato, come nel 777, il suo potere si amplifica, generando una vibrazione potente che può favorire la prosperità. Segnare questo numero sulla tua mano funge da promemoria tangibile della guida spirituale e del supporto che hai, aiutandoti a mantenere i tuoi pensieri e le tue azioni in linea con i tuoi obiettivi finanziari. Per ottenere il massimo beneficio dal 777, è essenziale scriverlo sulla mano dominante, quella che utilizzi più spesso e che quindi è più attiva e interagisce di più con il mondo. Così facendo, l'energia dell'abbondanza viene costantemente attivata durante le tue attività quotidiane, rafforzando l'influsso positivo del 777 e rendendolo un potente strumento per attrarre ricchezza. Dopo aver scritto il 777 sulla tua mano, pronuncia questa affermazione. Sono aperto a ricevere abbondanza divina e prosperità. L'universo sostiene i miei obiettivi finanziari. Questo rafforza l'energia del 777, allineando i tuoi pensieri e le tue intenzioni con la frequenza dell'abbondanza. Ripeti l'affermazione più volte al giorno, soprattutto quando senti emergere dubbi o negatività. Mantenere una mentalità positiva è essenziale quando si lavora con l'energia del 777, poiché pensieri ed emozioni negative possono bloccare il flusso di abbondanza. Pertanto, è importante concentrarsi sui tuoi obiettivi finanziari e avere fiducia nel sostegno dell'universo. Pratica quotidianamente la gratitudine, riconoscendo l'abbondanza già presente nella tua vita. Questo non solo aiuta a mantenere lontana la negatività, ma attrae anche esperienze più positive. Parliamo ora del numero 888, un altro potente simbolo di abbondanza finanziaria. In numerologia, 888 rappresenta l'abbondanza senza fine e il successo economico. Il numero 8 simboleggia l'infinito, indicando cicli infiniti di energia e potenziale. Quando ripetuto tre volte, come nel caso dell'888, questa energia si amplifica, diventando un potente emblema di prosperità. Scrivere 888 sulla tua mano può allineare la tua energia con la frequenza dell'abbondanza infinita. Inoltre, il numero 8 è associato all'equilibrio e all'armonia, fondamentali per mantenere una vita finanziaria stabile e prospera. Segnare 888 sulla tua mano permette di invitare queste qualità nella tua vita, contribuendo a creare una base solida per il successo economico. È consigliabile scrivere 888 sulla tua mano non dominante, considerata più ricettiva e aperta a ricevere energia e benedizioni. Facendo così, ti predisponi a ricevere l'abbondanza infinita simboleggiata dal numero. Questa pratica aiuta a bilanciare l'energia attiva della mano dominante con quella ricettiva della mano non dominante, creando un flusso armonioso di prosperità. Per aumentare l'efficacia dell'888, ripeti l'affermazione, sono un magnete per l'abbondanza infinita, la ricchezza fluisce verso di me senza sforzo e continuamente. Questa frase rafforza l'energia dell'888, allineando i tuoi pensieri e le tue azioni con la frequenza della prosperità infinita. Ripetila ogni giorno, soprattutto al mattino e prima di dormire, per mantenere la mente concentrata sull'attrazione della ricchezza. Mantenere una mentalità positiva e aperta è cruciale quando si lavora con l'energia dell'888. Pensieri ed emozioni negative possono interrompere il flusso di abbondanza, quindi è importante focalizzarsi sui tuoi obiettivi finanziari e avere fiducia nel sostegno dell'universo. Vivi di influenze positive e fai attività che ti sollevano e ti ispirano. Questo approccio aiuta a tenere lontana la negatività e attira esperienze e opportunità più favorevoli nella tua vita. Un altro numero di cui parleremo è il 999. Questo numero è legato al completamento, alla realizzazione e alla manifestazione dei desideri. In numerologia, il 999 simboleggia il raggiungimento degli obiettivi e il coronamento degli sforzi. Scrivere il 999 sulla tua mano ti aiuta a sintonizzarti con queste energie, avvicinandoti alla frequenza dell'abbondanza e della realizzazione. Il numero 9 è considerato un simbolo di saggezza e completamento. Quando viene ripetuto tre volte, come nel 999, il suo potere cresce esponenzialmente, generando una forte vibrazione capace di attrarre prosperità e successo. Segnare il 999 sulla tua mano serve come un promemoria fisico delle tue capacità di realizzare i desideri e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Per massimizzare l'efficacia del 999, scrivilo su entrambe le mani. Questo metodo aiuta a bilanciare le energie attive e ricettive dentro di te, creando un flusso armonioso di abbondanza. Scrivendo il 999 su entrambe le mani, assicuri che l'energia del completamento e della realizzazione sia costantemente attivata durante le tue attività quotidiane. Dopo aver scritto il 999 sulle tue mani, recita l'affermazione. Sono in sintonia con l'energia del completamento e della realizzazione. I miei obiettivi finanziari si stanno manifestando ora. Questa affermazione potenzia l'energia del 999, allineando i tuoi pensieri e le tue intenzioni con la frequenza dell'abbondanza e della realizzazione. Ripeti questa affermazione più volte al giorno, specialmente quando senti emergere dubbi o negatività. Mantenere una mentalità positiva è fondamentale quando si lavora con l'energia del 999. Pensieri ed emozioni negative possono ostacolare il flusso di abbondanza, quindi è essenziale concentrarsi sui propri obiettivi finanziari e avere fiducia nel sostegno dell'universo. Pratica la gratitudine ogni giorno, riconoscendo l'abbondanza già presente nella tua vita. Questa abitudine non solo aiuta a tenere lontana la negatività, ma attrae anche esperienze e opportunità più positive nella tua esistenza. Oltre ai numeri 777-888-8999, un altro numero potente nella numerologia è il 555. Questo numero è strettamente associato ai cambiamenti significativi, alla trasformazione e al rinnovamento. Utilizzare il 555 può aiutarti a rompere vecchi schemi e attrarre nuove opportunità che porteranno prosperità e successo finanziario nella tua vita. Il numero 5 è simbolo di cambiamento, avventura e libertà. Quando ripetuto tre volte, come nel 555, la sua energia viene amplificata, indicando un periodo di grandi trasformazioni. Il 555 è spesso visto come un segnale che è il momento di abbracciare il cambiamento e di essere aperti alle nuove possibilità che l'universo sta portando nella tua vita. Questo numero può indicare la necessità di lasciare andare il vecchio per fare spazio al nuovo, facilitando una crescita personale e finanziaria significativa. Per sfruttare al meglio il potere del 555, scrivilo sulla tua mano dominante, quella che usi più frequentemente. La mano dominante è più attiva e coinvolta con il mondo, il che la rende ideale per integrare l'energia del cambiamento nella tua vita quotidiana. Scrivere il 555 su questa mano ti aiuterà a mantenere la tua mente aperta e a essere pronto a cogliere le nuove opportunità che si presenteranno. Dopo aver scritto il 555 sulla tua mano, recita l'affermazione. Accolgo i cambiamenti nella mia vita e sono aperto alle nuove opportunità finanziarie. L'universo mi guida verso la prosperità. L'affermazione potenzia l'energia del 555, allineando pensieri e azioni con trasformazioni positive. Ripeti la mattina e sera per focalizzare la mente sull'accettazione del cambiamento. Adottare un approccio positivo è essenziale quando si lavora con l'energia del 555. Pensieri e sentimenti negativi possono ostacolare il flusso di nuove opportunità. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi finanziari e abbi fiducia nell'universo. Vivi di positività e partecipa ad attività ispiratrici per mantenere alta l'energia e attrarre esperienze positive. La pratica di scrivere numeri sulle mani a radici nelle antiche tradizioni e nelle pratiche spirituali moderne. Le mani sono simboli potenti in molte culture, rappresentando azione, potere e creatività. Tracciando questi numeri speciali sulle tue mani, stai essenzialmente caricando le tue azioni e intenzioni con l'energia dell'abbondanza. Le mani sono in costante movimento e interazione con il mondo circostante. Questo movimento aiuta ad attivare e diffondere l'energia dei numeri che scrivi. Scrivendo sulla mano dominante, infondi le tue azioni con l'energia dell'abbondanza, mentre scrivendo sulla mano non dominante, ti apri a ricevere questa energia in modo più efficace. Questo approccio bilanciato crea un flusso armonioso di dare e ricevere, essenziale per attrarre e mantenere la prosperità. Inoltre, questa pratica funge da promemoria costante delle tue intenzioni. Ogni volta che vedi i numeri sulle tue mani, ti ricordi del tuo obiettivo di attrarre abbondanza, mantenendo la tua mente focalizzata e allineata con i tuoi desideri, un elemento chiave della manifestazione. L'atto fisico di scrivere rafforza il tuo impegno verso i tuoi obiettivi finanziari. Le affermazioni sono strumenti potenti che possono potenziare l'energia dei numeri scritti sulle tue mani. Queste affermazioni allineano i tuoi pensieri e intenzioni con il risultato desiderato, creando una forte vibrazione che attira abbondanza. Quando utilizzate correttamente, le affermazioni possono migliorare notevolmente l'efficacia di questa pratica. Per iniziare, è essenziale scegliere affermazioni che risuonino con te personalmente, frasi in cui credi e che riflettano i tuoi obiettivi finanziari. Alcuni esempi sono, attiro ricchezza e abbondanza senza sforzo e sono pronto a ricevere infinite benedizioni finanziarie. Dopo aver scritto i numeri sulle tue mani, recita ad alta voce l'affermazione che hai scelto. Parla con convinzione e sicurezza, come se il risultato desiderato stesse già avvenendo. Questo rafforza le tue intenzioni e invia un messaggio chiaro all'universo. La combinazione della visualizzazione dei numeri e della pronuncia dell'affermazione crea uno strumento potente per la manifestazione. Ripeti le tue affermazioni più volte al giorno. La costanza è fondamentale per mantenere la tua mente concentrata sui tuoi obiettivi e per preservare una mentalità positiva. Puoi recitare le tue affermazioni al mattino, durante il giorno e prima di andare a letto. Questo rinforzo costante aiuta a mantenere la tua energia allineata con i tuoi obiettivi finanziari. La visualizzazione può anche potenziare l'efficacia delle tue affermazioni. Mentre pronunci l'affermazione, chiudi gli occhi e immagina il risultato desiderato. Visualizza una vita di abbondanza con tutti i tuoi bisogni finanziari soddisfatti. Prova le emozioni di gioia, gratitudine e soddisfazione come se i tuoi desideri fossero già realizzati. Questo intensifica la vibrazione della tua affermazione e accelera l'attrazione del risultato desiderato. Mantenere una mentalità positiva è cruciale affinché siano efficaci le affermazioni. I pensieri e i dubbi negativi possono bloccare il flusso di abbondanza e interferire con il tuo processo di manifestazione. È importante rimanere concentrati sui tuoi obiettivi e avere fiducia nel sostegno dell'universo. Pratica la gratitudine quotidianamente, riconoscendo l'abbondanza già presente nella tua vita. Questo non solo tiene lontana la negatività, ma potenzia anche l'efficacia delle tue affermazioni. La negatività può rappresentare un ostacolo significativo per attrarre abbondanza, bloccando il flusso di energia positiva e interferendo con il tuo processo di manifestazione. È essenziale mantenere la negatività sotto controllo per assicurare l'efficacia della pratica di scrivere numeri sulle tue mani e recitare affermazioni. Un modo efficace per contrastare la negatività è praticare la consapevolezza. Questo significa essere attenti ai tuoi pensieri ed emozioni e scegliere consapevolmente di focalizzarti sugli aspetti positivi. Quando noti pensieri o sentimenti negativi, riconosceli senza giudizio e poi sposta gentilmente la tua attenzione su qualcosa di positivo. Questo aiuta a prevenire che la negatività prenda radice nella tua mente. Un altro metodo per mantenere la negatività a distanza è circondarti di influenze positive. Trascorri tempo con persone che ti incoraggiano e ti ispirano. Partecipa ad attività che ti portano gioia e soddisfazione. Evita notizie negative e social media che possono prosciugare la tua energia e buttarti giù. Creare un ambiente positivo aiuta a mantenere alta la tua energia e allineata con i tuoi obiettivi finanziari. Praticare regolarmente la gratitudine è un altro potente strumento contro la negatività. Dedica del tempo ogni giorno per riconoscere e apprezzare l'abbondanza già presente nella tua vita. Può essere semplice come scrivere tre cose per cui sei grato ogni giorno. La gratitudine aiuta a spostare il tuo focus da ciò che ti manca a ciò che hai, creando una mentalità positiva che attira più abbondanza. La meditazione è un ulteriore mezzo efficace per tenere a bada la negatività. Aiuta a calmare la mente, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza dei tuoi pensieri ed emozioni. La pratica regolare della meditazione ti aiuta a rimanere centrato e concentrato sui tuoi obiettivi, rendendo più facile mantenere una mentalità positiva. Puoi anche utilizzare la meditazione per visualizzare i tuoi obiettivi finanziari e rafforzare le tue affermazioni. Prendersi cura della propria salute fisica è essenziale per combattere la negatività. Fai esercizio regolarmente, segui una dieta equilibrata e dormi a sufficienza. Il benessere fisico è strettamente legato al benessere mentale ed emotivo. Quando ti senti bene fisicamente, è più facile mantenere una mentalità positiva e rimanere concentrato sui tuoi obiettivi. Impegnarsi in attività creative può essere un ottimo modo per tenere a bada la negatività. Attività come dipingere, scrivere o suonare musica offrono uno sbocco positivo per le tue emozioni e aiutano a spostare la tua attenzione dai pensieri negativi. La creatività può essere un potente mezzo per esprimerti e connetterti con la tua gioia interiore, migliorando il tuo senso generale di benessere e attirando più energia positiva nella tua vita. Sviluppare un forte sistema di supporto è cruciale per mantenere una mentalità positiva. Frequenta persone che incoraggiano e supportano i tuoi obiettivi finanziari. Condividi il tuo percorso con amici o familiari di fiducia che possono offrire guida e incoraggiamento. Avere una rete di supporto può aiutarti a rimanere motivato e concentrato, specialmente durante i momenti più duri. Implementando queste strategie, puoi efficacemente tenere a bada la negatività e creare una mentalità positiva che supporta i tuoi obiettivi finanziari. Combinare consapevolezza, gratitudine, meditazione, benessere fisico, creatività e un forte sistema di supporto ti aiuterà a rimanere concentrato sull'attrarre abbondanza e manifestare i tuoi desideri. Molto importante è avere fiducia del processo e credere nella tua capacità di creare una vita prospera e appagante. Grazie per aver guardato il nostro video. Speriamo che tu abbia trovato utile questa tecnica per attrarre abbondanza finanziaria nella tua vita. Se ti è piaciuto il contenuto, non dimenticare di lasciare un mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi video. attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato sulle nostre nuove pubblicazioni. Condividi questo video con i tuoi amici e familiari a cui vuoi bene. Ci vediamo presto e buona fortuna nel tuo percorso verso la prosperità finanziaria. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.